iniziamo ufficialmente iniziamo ufficialmente dopo tipo un'ora di nulla più totale attacca da sto coso attacca dal cristallo allora viaggia all'ultimo checkpoint si ce voglio tornare scusate però ti fa innervosire cioè ti fa proprio uscita si il senno lo perdi lo perdi cioè su queste cose ragazzi cioè io transigo sui bug passo su su tante cose nei giochi ma cioè nel 2021 vede in videogioco che non prende mouse e tastiera si 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 poi dici sai a tastiera del cinese no cioè una tastiera che comunque è nota conosciuta mouse noto e conosciuto quindi voglio di come prendere parte serino c'era allora qui c'è stata lettera bellezza una lettera così fai un riassunto no sento che sto morendo ho sempre pensato che mi avrebbero ucciso i root ok avrei vissuto in eterno come te però non possiamo essere tutti eroi sei l'unica persona al mondo che pensa di poter fermare i root lo sai il resto di noi sta solo cercando di godersi al meglio i giorni che rimangono io ed ellen abbiamo dovuto farlo senza di te mamma mia non ti chiederò di gettare la spugna non un'altra volta ti chiedo solo di non pensare che ti stia sacrificando per noi ci siamo già sacrificati abbastanza da parte della tua sempre cara figlia nadine perfetto almeno queste cose le leggiamo anche perché fanno parte della storia anche perché fanno parte della storia noi non la conosciamo e le leggiamo tutte può risultare può risultare noioso da sentire però non lo facciamo c'è da leggere anche ma c'è un castoro vicino no ragazzi tra un castoro vicino allora vabbè queste queste sono cose l'habit massive tower eccetera 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 possiamo anche proseguire potrebbe vedere il giusto per vedere cosa c'è ok allora andiamo non so ragazzi quanto quanto la storia non so quanto la storia sia non mi fa leggere però fa una nota senza che tu dici quello che c'è scritto fai vedere quello sì 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 anche anche no ma io 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 di solito lo faccio però insomma ragazzi la leggo se volete leggetela mettete ovviamente si in pausa magari un attimo ok andiamo speriamo ci sia un po d'azione perché davvero però dica graficamente al suo perché è vero graficamente è molto bello l'obiettivo è quindi quello di per chiusire arrivano ecco là chi è a voi eccoli quelli laggiù guardali vabbè che belli che sono ma già stanno allora che ci hanno lasciato adesso ragazzi questa è comunque la prima partita quindi scarti che vuol dire non c'entra che cos'è perché non c'entra attenzione ma che sei pieno che sono l'inventario non può essere e c'è altre cose attenzione occhio qui diamo un'occhiata qui dentro sono cose no tu dai un'occhiata io che è sento si sento si sento smascellare che è eh io ve lo sento ma non capisco che sia eccolo ok è una prova assolutamente eh c'è tutta c'è tutta la gombricola ce ne sono altri si oh non stanno fatto fatto uno l'ho fatto poi io qua che c'è polvere della frenesia che so questi lamenti eh pigagli pigagli questi qua ah ok le munizioni forse non me le faceva prendere ragazzi perché ormai sei carico ero pieno ero carico sei carico? so carico quello sei te no vedi qua vieni dove sei? no io continuo ad esplorare il palazzo vado aspetta no vedi qua aspetta vieni cosa cosa che so ferro ferro? 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 un grande personaggio di The Division ferro ok poi devo capire bene l'inventario raga perché non so come funziona ancora aspetta intanto fammi dare un'occhiata giusto per vedere siccome ho dovuto siccome ho dovuto skippare il tutorial perché durava tipo 6 ere geologiche quel cacchio di tutorial ecchio 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 nuova parola eh comunque da quando faccio Twitch sto riscrivendo il vocabolario della lingua italiana aspettami come arrivo allora vediamo che c'è qua sopra segna ecchio ok ecchio? nuova terminologia eh ecchio 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 allora qua sopra non c'è niente quindi possiamo riscendere scendiamo scendiamo il gioco all'inizio se lo aprite non pre... gente? c'è gente vabbè quello che è comunque il mio personaggio è più efficace da lontano io invece è più per la media distanza quindi sì abbiamo fatto due cioè abbiamo scelto anzi scusami due personaggi diciamo che come dire si completa si completano sì l'ho fatto apposta diciamo l'ho fatto che c'è uno laggiù andato che è il prossimo questa è per carica o r ferro sì perché siamo su pc eh se non avete capito adesso l'avete capito altra cosa che ho notato ora le cose che troviamo ovviamente in giro nel senso cioè ne prende uno di due nel senso non è che sono quindi nel senso dovremmo penso poi quindi alternarci se no mai uno via tutto all'altro ok non è condiviso quindi perfetto da quello che vedo perché vedo che quando tu raccogli sparisce l'oggetto quindi vuol dire o piglio io quindi mi frega la roba ragazzi mi frega le cose quindi vai ci alterniamo non si fa se non si fa te lo prendi tu se no prendo io salve guardalo 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 chi è fallo fare un po' da da distanza di questo alè di classico eh molto facili eh munizioni scatti questi prendo io attenzione prendi questo sento sento rumori molesti oh si si viena fatti sta là giù sta l'ho visto beh chi ha posto giusto ok dov'è dovrebbe stare laggiù ma questa lì questo sale no inizio è andato chi so dove allora io non vorrei disturbare quei carini allora prima di disturbare quelli e di morire magari vieni qua vieni qua che si sale con spazio ok perfetto qui ci sono qui c'è del ferro e qui c'è fardello del giocatore d'azzardo non so ah poi non so una cassa ah fino non so se queste cose poi le possiamo equipaggiare in qualche maniera adesso vediamo eh no ma sono anche oggetti forse per così per craftare mi dice si potrebbe essere comunque ragazzi noi del gioco appunto sappiamo poco quindi è tutto così live che ci proviamo ma ci proviamo io questi li vedo skillati male raga li vedo proprio skillati li vedo bene aspetta aspetta devo far far dove è ma se uno si vuole che ne so protegge oh kaiser cavolo oh 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 no 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 con ste spade aspetta c'è dietro aspetta io sono brutto bisogna bisogna muoversi bisogna un altro andeti fa la capriola ma mamma mia ha preso un pieno ma ha preso un pieno aia 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 come se se cura come se se cura non se puoi coprire eh eh non se puoi coprire ah ok devo scurare oh dio aspetta che io asso asso il piettone quello tattico aspetta io da lontano sono efficace da lontano il mio personaggio è molto efficace da lontano raga allora non se la stava mancava male hola andre come stai ciao ciao sicuramente il moto ci starà per forza eh perché no eh facciamo il giro tocca a fare quindi andiamo via prezzanti del pericolo invece uno che giro per i fatti propri due vai spara tu con l'armona con la serie qui c'è no 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 la sentenza vanno che via un poche sì è veramente assurdo aia aia mi ha beccato porca miseria stanzionando stanzionando e vende del live che la miseria occhio occhio andato allora che dico una meraviglia allora non ho io non ho vite che non ho medikit o come cavolo si chiamano in questo gioco cioè non ho la possibilità di curarmi in soldoni ai quelli la che tifosa che qualcuno vediamo sia giusto sì sì perché abbiamo fatto il check point quindi ogni volta che fai il check point te lo ridà perché sennò penso di attivare la mappa comunque c'è stato obiettivo oddio c'è una donna della romere dov'è dov'è laggiù davanti a noi aspetta roba che se ci vede sono che si preso marò mamma mia confondilo io sono efficace da lontano altri altri no no io sanguino vediamo vediamo nell'inventario no non ho bende non ho bende io ce l'ho ma non so se te le posso da allora tanto questo comunque il sanguinamento non me lo toglie no ha dato che voglio andare al check point in un vicino dai sì dai agli tagli e carcere po' no un attimo qua chi è non sta aspettate una seta scarti niente vediamo l'altro vediamo la vediamo l'altro noi che rimango scarti qua il stallo non so cosa faccia c'è un altro che arriva laggiù intanto parentesi passiamo del quale ci ricorrono però questi lo stai io sanghino che c'è di manco mannaggia pianta mannaggia pianta si seguime una cifas non so dove sei ok aia ma c'è solo con me mamma mia ragazzi proprio è sempre per il rotto della gruppi anche poi mamma mia per rotto da guffia vieni a ingestate sta c'è poi questa posta poi nel senso di uno scopo tipo uno schifo ballonzolante un'episodio che ero scarti a remi per usare i due punti caratteristica ok ho due punti caratteristica io pure ma stavo usiamo lì ma vigore sicuramente quello si spendi punto per fare rigore poi lavoro di squadra lavoro di squadra dai ma no l'abbiamo fatto sul vigore io ormai non mi sono sbagliato problemi grossi problemi è anche nella lettura ragazzi c'è del ferro sempre tanto nel ferro c'è ruppetta vieni qua oh qui c'è una cassa comunque anche qui la fauna è bello 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 ho detto il tempo che ho detto bello si è fregato tutto ragazzi vediamo scatola munizioni a bene 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 siamo carichi occhio io ho stato un pietone tattico comunque delle pillole di saggezza sulla storia di questo gioco ecco non un occhio no che stai facendo aspetta che mi spruzza una cosa credo che quelle cose quelle rovi si è detto alle spalle alle spalle alle spalle il diablo è il via porto cane aia agli anni stanno no 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 c'è troppo no e vabbè c'è tutta la famiglia qua no te va dove sei arrivo per primo a diri qua porca miseria aspetta c'è sta una cassa a fai sì però c'è sta ancora uno io sanguino c'è la miseria vedi un po' cosa c'è non ho un malebende in questo gioco no vuoi davvero usare questo oggetto aspetta però qualità al checkpoint vieni aspetta sì 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 giusto giusto aspetta prendo questo no faccio una finaccia ragazzi faccio la finaccia sbrigiamoci non so se se termina il sanguinamento che cosa succede penso si muoia sì beh penso che si no sì se ricariciamo ok eh però adesso che ci siamo ricaricati spuntano questi non lo so si rispaunano ecco di là bella dove era che ha tirato il doppiettone no quello non lo so che era rispaunano eh vabbè quello che ha detto ci dà pure cura cioè tu lo volevi giocare col joypad questo vero no ma che stiamo atti no nel senso lo stavo giocando col freddo perché il mouse aveva problemi no perché questo ragazzi almeno sul pc secondo me con la tastiera tutta la vita comunque uno sparatutto se vogliamo quindi anche diciamo ma la television non proprio quello però per capire il genere morto ma da dietro non vi è coso c'è tutta la famiglia oh è so preso non lo so non lo so non lo so non lo voglio scoprire io ho paura che venga il ciccione la un punto per accedere e qua oh no occhio 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 a quello di spadone no ovvio c'è tutta ma famigliola qua no occhio è quello è preoccupa grande ok che arriva ok sto frenando ok non gli fanno niente se non l'ho no no Aspetta, aspetta Chi sei muoio? Chi sei muoio? E che me lo so muoio? Sto muorendo lentamente Tu capisci che Aia, ma porca mi sembra Ma dove l'avevo mortato? Sì? Aia, un imordaccio Ma attenta, dove cazzo vieni? Se tu sapessi No, l'ho visto Ok Porca miseria Per il rotto della cuffia E siamo all'inizio del gioco Signoria All'inizio del gioco